Salve a tutti! Parliamo tutte le settimane di pozioni e le vediamo sempre utilizzare in varie opere, l'esempio più semplice è proprio Harry Potter. Ma sapete realmente cos'è una pozione? Oggi parleremo proprio di questo. Una pozione, dal latino potio o potionis, ovvero medicina o bevanda, chiamata a volte anche filtro, dal latino filtrum, ovvero filtrato, è una miscela magica che a seconda degli ingredienti che si utilizzano o della preparazione cambia effetto. Nell'antichità il termine pozione si associava alla medicina, infatti ancora adesso questo termine viene usato per indicare rimedi terapeutici naturali. Una pozione, come ben sapete, può avere anche altri effetti o tra quelli curativi. Molto spesso infatti può essere usata anche come filtro d'amore o come veleno. Nella cultura popolare le pozioni vengono generalmente associate a personaggi negativi o apparentemente tali. L'esempio più lampante è proprio il nostro amato Severus Piton. Nei videogiochi le pozioni possono assumere diverse caratteristiche e o funzioni. Ad esempio nel mondo di Minecraft non esistono solo pozioni curative o danneggianti, ma anche pozioni che ti permettono di andare più veloci, di respirare sott'acqua, di guardare al buio o più semplicemente di volare. Un esempio invece più simile alle pozioni classiche esiste per esempio nel mondo dei Pokémon, dove vengono usate per far recuperare i punti salute o i punti mossa ai mostriciattoli. Nella letteratura viene molto spesso usata la formula delle pozioni, soprattutto nel mondo delle fiabe o dei fumetti. Due esempi classici sono ovviamente Biancaneve con la sua classica ammela avvelenata o Asterix e Obelix con la pozione della forza creata dal druido Paranomix. Adesso vi lascio a Carlo che vi parlerà della parte storica e mitologica legata alle pozioni. Noi ci rivediamo a fine lezione. Ciao a tutti. Ora io vi parlerò della parte storica e mitologica. Le pozioni nascono sotto forma di due macro categorie, le pozioni di coaligione e le pozioni avvelenanti. Entrambe vengono realizzate dagli alchimisti o dagli erboristi. uno dei più celebri e famosi alchimisti della storia fu Paracelso. Nella parte delle pozioni di coaligione ne abbiamo parlato anche in altre materie, come erbologia. Prendiamo ad esempio quando abbiamo parlato del besoar, che è uno degli elementi principali a livello storico, come componente delle pozioni di coaligione. Oggi ci siamo soffermati principalmente sulle pozioni velenose. Il veleno deriva dal latino venenum, che a sua volta deriva dal pianeta Venus, venere, che a sua volta deriva dalla dea della bellezza e dell'amore, la dea greca appunto venere. Perché viene fatto questa associazione? Uno dei primi veleni creati a livello esoterico nella storia è il filtro d'amore. e, a differenza di adesso, all'epoca veniva inserito non in una categoria a parte, ma bensì nella categoria veleni. Infatti, il filtro d'amore assoggetta un'altra persona ad amare la persona che ha creato la pozione, o per cui è stata creata. Questa pozione può avere effetti negativi, non solo a livello energetico, ma anche fisico. A livello energetico porterà un'energia negativa sia da parte del realizzatore, quindi quello che ne dovrebbe trarre benefici, sia la parte malcapitata, ovvero la persona per cui è stata fatta questa pozione. Per questo motivo, appunto, è stato introdotto, è stato inserito come veleno. Nella storia troviamo anche riferimenti a molteplici tipologie di veleni. Infatti, ad esempio, nell'antica Roma, anche soltanto gli alimenti andati a male o difettosi venivano considerati velenosi. Infatti, si era soliti chiamarli malum, ovvero ogni oggetto, cibo, qualunque cosa che veniva considerata velenosa, veniva chiamata col suo nome e poi seguita dalla parola malum. Nel corso della storia, gli storici e gli archeologi hanno scoperto molteplici oggetti o addirittura scheletri che fanno risalire all'argomento Pozioni. Infatti, secondo uno studio, la più antica pozione ritrovata sarebbe risalente a diecimila anni fa, all'incirca nell'ultima fase del Paleolitico Superiore. E la pozione che sarebbe stata usata sarebbe appunto un veleno. Infatti, si pensa che i cacciatori di all'epoca usassero appunto le sostanze velenose per addormentare o comunque indebolire le prede. Nel 1858, il paleontologo Alfred Fontan rinvenne durante scavi presso la grotta inferiore di Massat, nella Regie, ovvero nella regione del Midi Perenei, dei resti ossei, di grossi mammiferi e alcuni frammenti di frecce ricavate dall'osso o dall'avorio di alcuni animali. Da questi, da accurati esami, si sono poi scoperte tracce di veleno. E quindi si è dedotto che i cacciatori appunto dell'epoca avessero ucciso questo grande mammifero avvelenandolo. Tutt'oggi, in molte tribù del mondo, vengono utilizzati queste pozioni, veleni, per cacciare o addirittura per uccidere individui. Con questo ho concluso la parte storico-mitologico e, che dire, passo la parola a Francesco. Ciao a tutti, buona serata. Rieccoci. Il compito per la prossima settimana, da consegnare quindi entro nel D8, sarà quello di fare una mini ricerca per casata, di almeno 20 righe, su Paracelso. Questa volta però chiedo anche di mandarmi gli appunti presi a lezione. Spero vi sia piaciuta questa lezione particolare, ringrazio Carlo per esserci stato, noi ci vediamo settimana prossima, buona serata.